Com'è la righe? Sotto il braccio! Come siamo i sassi? Dai! Sotto il braccio! Al tre facciamo i sassi, venite! Siamo pronti? Allora! One! Two! Three! Passos! Un applauso al gestore della cascata! Tutta l'equipe, sì! Eh? Una in camera, ma se lo facciamo! Alla mia famiglia! Una alla mia consorte! Eh? E poi, signori, una ai ballerini, perché senza i ballerini non si fa mai una figara! Una! Giusto! Ormai è così! Oh! Oh! Una... Uno al maestro Crisci e la sua... Ed una Sabrina, la maestra Sabrina con più due anni! Oh! Buonanotte a tutti! Grazie! E ci vediamo la prossima volta! Senti avanti! Buonanotte! Buonanotte! Il ristorante e pizzeria in Corosone è dietro di comunicare che è aperto tutte le sere, il sabato e la domenica, di show e band di gruppo...